Il passo successivo all'acquisto di una licenza split è l'acquisto di uno split contract. In questa guida ti mostreremo come acquistare uno split contract in ultima. Il team ultimo organizza regolarmente diverse promozioni. Durante la promozione, nella dashboard sarà visibile una scheda aggiuntiva contenente prodotti promozionali. Maggiori dettagli sulle promozioni in corso sono disponibili sui nostri canali Telegram. Tieni presente che il processo di acquisto dei pacchetti promozionali è simile a quello che ti mostreremo in questa guida. Dunque, accedi al sito web DefiU. Seleziona i pool a cui vuoi unirti, pool VIP o pool Unity. Scorri la pagina e visualizzerai un elenco di prodotti disponibili per l'acquisto. Per acquistare uno split contract, clicca sulla scheda split contract. Seleziona il contratto desiderato e clicca sul pulsante purchase, acquista. Si aprirà una finestra dove ti verrà chiesto di selezionare un metodo di pagamento. Seleziona ultima, conferma l'accettazione dei termini e delle condizioni selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante purchase, acquista. Nella finestra che si aprirà saranno indicati l'importo di ultima e l'indirizzo del wallet a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche come codice QR per effettuare la transazione dall'applicazione mobile. Per pagare, invia l'importo richiesto al wallet specificato. Invia l'importo esatto che visualizzi sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Fatto! Hai acquistato uno split contract. In seguito all'acquisto di un contratto, noterai che valori di widget splits license usage, l'utilizzo licenze nel dashboard sono cambiati. Il contratto acquistato sarà visibile anche nella sezione My Contract. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro! Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio di assistenza e le servizio di assistenza.